Buonasera a tutti e a tutte. Diamo inizio ai lavori del Consiglio Comunale in sessione straordinaria di mercoledì 28 dicembre 2022. Lascio la parola per l'appello alla dottoressa Porta. Molinari, presente. Invernizzi, presente. Sant'Agostino, Tallera è assente. Tosi, presente. Panzarasa è in arrivo, in questo momento è assente. Spina, Autelli, Pasini, Pialtini, Rostato, Camera, assente. Melotti, presente. Quindi ad ora 10 presenti, numero legale è costatato, quindi la seduta può procedere allo svolgimento delle attività consigliari. Partiamo con il punto 1, approvazione verbali seduta consigliare del 28 novembre 2022. Se non ci sono osservazioni, passiamo ai voti. Voti favorevoli 10. Contrari e astenuti nessuno. Il punto 1, pertanto, è approvato. Prima di passare al punto 2, era un'integrazione all'ordine del giorno, ma da regolamento va messa all'inizio dell'Assemblea consigliare, l'interpellanza che è stata proposta dal gruppo Garlasco Civica. È un'interpellanza in materia di bilancio, crediti inesigibili. Chi la illustra? Consigliere Melotti, prego, ne ha facoltà. Buonasera a tutti. Allora, noi abbiamo presentato questa interpellanza per chiedere approfondimenti su quelli che sono i crediti da voi dichiarati inesigibili. Avevamo fatto un'interpellanza di questo tipo già nei mesi passati, già in altri consigli comunali. Avevamo chiesto accesso agli atti, forse era in particolare con riferimento a importi relativi all'Atari. Nello specifico qui vediamo anche una determina del capo area polizia locale con riferimento a quote inesigibili relative a ruoli, contravvenzioni e sanzioni. Quello che ci stupisce un po' è in particolare l'importo piuttosto elevato di queste cifre e nonché gli anni, nel senso che dagli atti abbiamo visto riferimento ad anni probabilmente anche precedenti ai cinque previsti per legge per la proposta di queste pratiche di inesigibilità. Quindi quello che volevamo chiedervi è un maggiore dettaglio in merito a importi specifici, magari gli importi più elevati che sono inclusi in queste pratiche, eventualmente anche qualche dettaglio in più su quelli che sono i soggetti debitori. Questo per capire appunto se si tratta di cifre in qualche modo fisiologiche o se c'è qualcosa di patologico nel portare a bilancio una cifra così elevata di crediti inesigibili. Nello specifico anche ci ha stupiti un po' vedere quelli che sono i costi che sono stati sostenuti proprio per potenziare le attività di recupero del credito. Quindi ci interessa capire se è sensato il rapporto tra i 300 mila euro che abbiamo visto ottenuti proprio o meglio investiti per potenziare queste attività e quali sono stati poi i risultati se una cifra così elevata viene dichiarata inesigibile. Grazie consigliere Melotti per la risposta l'assessore delegato al bilancio e il sindaco Molinari. Prego sindaco. Sì buonasera a tutti. Fischio io? Sì. Prova? Va bene. Ok. Dunque la risposta verrà divisa in quattro punti. Il primo e il quarto lo faccio io, il secondo e il terzo viene fatto dalla dottoressa Vanoli. Dunque dividere la risposta all'interpellanza in quattro parti. Il punto uno premessa della problematica dei crediti inesigibili in generale a livello metodologico e nazionale. Secondo la situazione di Garlasco con i dati numerici del FIDF CDE che il fondo crediti di dubbia inesigibilità e della riscossione coattiva. Punto tre. La misura di contrasto dell'evasione finalizzata a recupero coattivo con l'ente che intende adottare sia per i tributi che per le sanzioni del CDS cioè del codice della strada. Il quarto punto breve conclusione sull'inopportunità dell'interpellanza la vigilia di Natale. Prima di tutto occorre premettere che l'argomento dell'interpellanza presentata arriva a queste caratteri immediatamente tecnici e non amministrativi politici in quanto riguarda l'attività gestionale. Quindi qui c'è una distinzione che bisogna fare oggettiva tra un funzionario. Il sindaco intanto comunico che l'assessore Panzarasi è entrato in aula. Ciao Isabella. Dicevo che qui bisogna fare una distinzione importante e questa cosa era già da fare da tempo perché secondo noi c'è una difficoltà nel capire la differenza tra un funzionario e un assessore al bilancio. Inoltre si riferisce a un'attività in fase di espletamento e verifica quindi l'interpellanza non è da intendersi di carattere urgente e indifferibile. Infine si chiede contezza di dati ed elementi maturati nel corso degli ultimi 15 anni riferiti per la maggior parte da amministrazioni che hanno ricoperto mandati precedenti nei quali si può faccio l'esempio 2001, conoscete benissimo 2011 il dottore Enzo Speltino, 2011-2021 il dottore Franco Farina, dei quali si può ora solamente iterare le somme in relazione a procedimenti avviati da altri. Il punto 1, che è una promessa abbastanza importante. In Italia i crediti inesigibili affogano i comuni. Secondo il Ministro dell'Economia, a relazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, su criteri per la revisione del meccanismo di controllo e di discarico dei crediti non riscossi, anno 2021, ammontano circa il 40% tra i crediti complessivi, quelli di difficile esigibilità. Ma un'analisi di quoted business, basata sulle elevazioni dei conti di tutti i comuni, evidenza che i dati sono ben più significativi. Il problema dei crediti di dubbi e esigibilità è diventato un cancro per l'economia moderna. Il fenomeno ha guadagnato l'opposizione dell'Agenza dei Punti di Debolezza dopo il crack di Brothers e la grave crisi finanziaria del 2008. Da quel momento il sistema credito e finanziario privato è finito sotto i riflettori. I dati hanno messo in evidenza quanto è rilevato il problema del nostro Paese, le cui banche possedono molto tempo una quantità rilevante, soprattutto rispetto ai principali competetes, che sono i concorrenti europei, dai cosiddetti NPL, cioè i crediti deteriorati. La soluzione adottata in questo caso è stata quella di far confluire progressivamente negli NPL in una bad bank. Grazie a tale spediente, i crediti di dubbia esigibilità hanno cominciato a migrare dai bilanci delle banche agli altri intermediari finanziari e ripulendoli. Perché non applicare lo stesso schema agli enti locali, visto che anche essi hanno rilevanti difficoltà con questa tipologia di crediti? Non trattandosi di imprese private, la questione della difficoltà finanziaria dei comuni è più complessa. Nel dettaglio il Ministro dell'Economia, delle Finanze, l'8 ottobre 2021, ha relazionato il Parlamento circa lo stato dei crediti non riscossi, ai fini di una redefinizione della disciplina legislativa dei crediti di difficile esigibilità. Dalle relazioni emergono elementi che possono essere ricondotti, tra l'altro principalmente alla gestione del magazzino, dei crediti fiscali, che come dimostrato da dati, sui crediti non riscossi, anche nel confronto internazionale, risulta poco efficiente, sia per cause legate all'attuale assetto normativo, sia per l'esistenza di una consistente parte di crediti ormai inesegibili. I dati emersi di relazione sono tutt'altro che positivi. Alla fine del 2020 la cosiddetta del magazzino crediti, cariche e residui descritti a ruolo, ha raggiunto oltre 999 miliardi di euro. Circa 400 miliardi di euro risultano difficilmente recuperabili. Circa 344 milioni di euro, che è il 34,40% del totale, ha un'anzianità maggiore di 10 anni. Circa 56 milioni di euro sono crediti di importo inferiore a 1000 euro, che impongono di valutare il rapporto costo-benefici rispetto all'operazione di recupero. Circa 18 milioni di contribuenti sono in debito col fisco, di cui ben 15 milioni sono persone fisiche, delle quali 2,5 milioni hanno attività economiche. Dei carichi e risidi di competenza statale, ben 133 milioni sono dovuti a soggetti deceduti e di tecessate, mentre altri 152 milioni da soggetti con procedura concorsuale in corso. Sono numeri impietosi che impongono di trovare una soluzione. Una delle possibilità indicate nella relazione è quella dell'alleggerimento del magazzino attraverso il discarico dei crediti inesigibili, che permetterebbe invece di liberare una parte delle risorse umane dell'Agenzia delle Entrate riscossione, attualmente impegnate all'operazione di recupero dei crediti, da impegnare nella prevenzione e nel contasto-evasione, attraverso l'interazione tra banche e dati a disposizione dell'amministrazione finanziaria, ovvero le banche e dati della fattorizzazione elettronica, le banche e dati dell'anagrafe tributaria e l'anagrafe dei rapporti finanziari per le giacenze sui conti correnti. Ma quali sarebbero i risvolti di tale soluzione? Ad oggi gli enti locali si trovano a dover far fronte ai crediti di difficilizzazione attraverso accantonamenti consistenti. Questi crediti caratterizzano in negativo i bilanci del Comune. Infatti, ad oggi risultano da incassare a livello nazionale crediti per circa 31,713 milioni di euro. Di questi ne risultano accantonati a fondo crediti di dubbia esigibilità, sempre su base nazionale, 22,927 milioni di euro. Tenendo conto dei numeri illustrati dal Ministero dell'Economia ed applicato le percentuali di inesegibilità del 40,4%, circa 13 milioni di crediti esibili dei bilanci comunali sono inesegibili e quindi a norma dei principi contabili del Decreto Legislativo 118 2011. Andrebbero eliminati dai reti di conti di bilancio, determinando così un forte squilibrio finanziario. Infatti, dai dati della BDAP, che ne abbiamo parlato prima, si evidenzia che il 31-12-2020 i Comuni italiani che presentano un disavanzo in amministrazione sono 819, pare al 10,8% totali. Dall'analisi dei bilanci, però, emerge che circa 2.551 Comuni hanno effettuato un accantonamento a FCDE, sempre abbiamo detto prima, per chi non lo sapesse, sono sempre il fondo credito di dubbia esigibilità, del titolo primo e terzo da discuotere e conservati in bilancio al 31-12-2020, inferiore alla percentuale di inesegibilità dichiarata dal Ministero. Pertanto, incrementando tal accantonamento fino alla soglia percentuale del 40,04%, la situazione sarebbe totalmente differente e molto peggiorativa per le finanze comunali. Infatti, i Comuni in disavanzo di amministrazione salirebbero a 1.370, pare al 17,37% del totale, con Comuni e Regioni ai vertici, Lazio e Campania. Ma ancora un fatto più rilevante è l'assommatore finale di tutti gli avanzi e disavanzi di amministrazione degli enti passerebbero da un saldo positivo di 221 miliardi, a un disavanzo di meno 131 miliardi. Disaggregando i dati a livello comunale, si riportano i dati per tutti i Comuni italiani, in forma aggregata, per le voci tributi, proventi di attività di controllo, vendita di beni e servizi in riferimento alla gestione dei beni. Uno, tributi imutasitari, addizionale comunale IRPE, eccetera, da incassare al 31-12-2020, 19 miliardi. Due, proventi all'attività di controllo, ad incassare, sempre al 31-12, 6 miliardi. Venti dei beni e servizi di gestione dei beni, sempre al 31-12 del 2020, 4 miliardi, anzi quasi 5. A fronte di questi dati è evidente che il sistema necessario di una profonda e organica revisione, sia al punto di vista della riscossione, da interni siccome complemento essenziale della riforma più generale del sistema tributario italiano, sia del sistema contabile degli enti locali, con una revisione dei principi contabili connessi alla gestione dei crediti e dei relativi accontornamenti dei bilanci, tenendo conto del giusto equilibrio tra risorse da stanziare in bilancio, difficoltà di riscossione e di accontornamenti da operare in serie di rendiconto. Punto 2 e punto 3. Buonasera, mi scuso per la voce che è un po'. Allora, il fondo crediti di dubbia esigibilità è un fondo, come sappiamo, che è stanziato nella parte di spesa in ciascun esercizio, sia per la parte corrente che per la parte in conto capitale, il cui ammontare è determinato proprio in considerazione alla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede e si formeranno nell'esercizio finanziario della loro natura e anche dell'andamento del fenomeno nei cinque anni precedenti all'esercizio. quando è l'accantonamento al fondo crediti di dubbia difficile esigibilità ha proprio la precipua finalità di evitare che delle spese esigibili siano finanziate con delle entrate che poi risultino invece inesigibili. È indispensabile, è stato creato proprio per mantenere l'equilibrio del bilancio e la previsione di queste poste deve essere proprio congrua per due principali motivi. Uno perché la copertura del rischio sia effettivamente realizzata e anche perché lo stanziamento in bilancio dall'altro conto non sottraga invece delle risorse alla gestione in una misura superiore a quello che poi è necessario. Per quanto riguarda il comune di Garlasco nella composizione del fondo crediti sono state accantonate delle quote relative alla Tari per 130.000 euro e una quota relativa alla contravenzione del codice della strada per 17.600 euro. Per quanto riguarda la Tari sono stati emessi nel mese di novembre degli avvisi che sono sia sollecito dopo 30 giorni se non viene pagato l'F24 si trasformano praticamente in accertamenti. Questo è un atto se vogliamo nuovo che non è da molto che si usa però senz'altro è molto efficace perché con non solo la spesa di postalizzazione riusciamo ad accelerare la macchina degli accertamenti e quindi degli incassi e di conseguenza della riduzione del fondo crediti. In questo caso è stato fatto tutto internamente quindi non ci sono costi a parte la postalizzazione che vengono sottratti poi effettivamente all'incasso. Per quanto invece riguarda l'iter per il recupero delle sanzioni del codice della strada preciso quanto mi è stato comunicato dal comandante della polizia locale e più precisamente che la percentuale delle sanzioni pagate rispetto ai verbali emessi si attesta prima quindi dell'emissione del ruolo da anni a un valore superiore del 72%. Come specificato nella determinazione 740 del 4 novembre il comandante della polizia locale ha affidato la riscossione coattiva delle entrate comunali in sofferenza liquide ed esigibili riguardanti i verbali di contravenzione emessi dall'ufficio di polizia locale per infrazione del codice della strada all'agenzia delle entrate per le riscossioni delle annualità fino al 2007 alla credit source per le annualità 2008 e 2009 all'area riscossioni per le annualità 2010 e 11 alla società maggiori tributi per le annualità 12 13 14 15 alla sarida srl per le annualità 16 17 18 e la nevi credit che è una società che si occupa delle riscossioni delle sanzioni codice della strada all'estero per i cittadini esteri. Le liste di inesigibilità presentate dalle società affidatarie dei servizi di riscossione di cui sopra sono realizzate da loro stesse dopo aver esperito infruttuosamente ogni azione possibile finalizzata al recupero del credito proponendo l'inesigibilità per le pratiche il cui processo di riscossione coattiva non è andato a buon fine per irreperibilità o per se provenuto decesso del debitore impossibilità giuridica all'esperimento delle procedure coattive assenza di beni mobili registrati mancanza di cespiti aggredibili per partite interessate da procedure concorsuali o per onerosità della procedura in rapporto all'entità del credito da riscuotere. Di fatto nella determina sopra richiamata si è sostanzialmente preso atto di queste liste e si è provveduto a depennare e pertanto ad abbassare la quota degli introiti da riscuotere in fase di ruolo. Considerato il poco tempo per dare una risposta più analitica e di dettaglio della questione nonché tecnica per la temporanea assenza dall'ufficio il comandante resta a disposizione per preparare un elenco più dettagliato di tutte le procedure che sono state esperite al fine di dichiarare inesigibili questi crediti tramite i concessionari. I concessionari hanno tutto l'interesse a esperire tutte le procedure in quanto il loro guadagno è proprio una percentuale sull'incassato. Voglio inoltre sottolineare contabilmente io che il fondo crediti di dubbi e difficile esigibilità non viene alterato e l'avanzo di amministrazione non viene penalizzato dallo stalcio di questi crediti inesigibili delle sanzioni del codice della strada poiché cautelativamente questo ente ha gestito negli anni passati questa tipologia di entrata coattiva per mera cassa al fine di assicurare la veridicità delle entrate che supportano tutte le spese. L'ente intende perseguire l'attività di recupero relativa all'evasione tributaria che costituisce per questa amministrazione e anche per assolutamente il mio ufficio un'opportunità per attuare una politica in positiva più equa nei confronti della propria cittadinanza e allo stesso tempo permettere il recupero di risorse da poter destinare alla realizzazione dei propri obiettivi proprio in sinergia con tutti gli uffici e i servizi. Nei primi mesi dell'anno 2023 tra l'altro verrà esperita anche una gara il cui indirizzo è stato dato dall'amministrazione anche con una delibera di giunta comunale per la riscossione dell'evasione tributaria per l'Imu e per la Tari in modo tale da arrivare a un anno a riscuotere subito l'anno precedente. Per quanto riguarda l'Imu 2017 ci abbiamo pensato noi internamente adesso usciranno i primi avvisi per non perdere l'annualità poi la normativa prevede che abbiamo fino al 26 di marzo per riuscire ad aggiungerne altri. Comunque anche l'anno 2017 non verrà assolutamente perso. Grazie. Termine con il punto 4 che è la conclusione. Malgrado la riservatezza, scusate, la ristrettezza temporale intercosta tra la presentazione di interpellanza e lo svolgimento della presente seduta consigliaria che premetto che faccio complimenti a Riccardo che ha voluto discutere perché per me non l'avremmo discursa. Tenuto anche conto del periodo festivo che con la conseguente assenza per ferie, perché anche i dipendenti devono fare ferie, recuperi ma anche malattie influenzate dai funzionari e del personale comunale. Aggiungerei che credo ci voglia un minimo di rispetto per presentare un'interpellanza alla vigilia di Natale quando credo che i nostri dipendenti svolgano un lavoro assolutissimamente ad hoc per tutte le funzioni del comune, per tutti gli uffici. Non credo che giochino a panettone statistiche e soprattutto non brindino ai crediti di dubbi e disabilità. Comunque detto questo abbiamo voluto mantenere la risposta. L'amministrazione ha comunque voluto fornire risposte tempestive al gruppo di consigliere di minoranza per dimostrare di essere sul pezzo riguardo tale materia, particolarmente delicata, che come detto in premessa interessa a tutti gli enti locali italiani e anche all'amministrazione comunale di Garlasco. Tiene costantemente sotto controllo proprio per poter garantire in tempo reale la sostenibilità dell'ente finanziario, insomma delle finanze dell'ente. La possibilità di recupero coattivo delle entrate comunali sono state particolarmente compromesse negli ultimi anni a seguito della normativa di contrasto di epoca Covid e tuttora si prevede l'eventualità di sensibili e minori entrati a fronte delle previsioni contenute del disegno di legge di bilancio per il 2023, di annullamento automatico di tutti i debiti fino a 1.000 euro comprensivo di capitale. Interessi per ritardate iscrizioni a ruolo e sanzioni. Risultati da singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, compresi anche eventuali debiti e residui della rottamazione precedenti. Effettivamente la situazione economica generale delle famiglie italiane e naturalmente anche in Garlasco non è facile nel presente periodo congiunturale e l'aspetto sociale non può essere sottovalutato da un'amministrazione comunale che abbia come valore ed obiettivo il welfare in generale della propria comunità. E se da un lato è certamente fondamentale perseguire l'amorosità affinché l'istituzione non perde di credibilità, oltre che non si determinano danni erariali. Dall'altro è indispensabile tenere in considerazione la situazione di un bisogno e trovare il giusto equilibrio tra interessi dell'ente, delle entrate e sostegno sociale. Si tratta di strategie delicatissime da bilanciare con attenzione, che non possono esaurirsi quella risposta ad un'interpellanza dell'ultimo minuto. Grazie. Ricordo che è un'interpellanza quindi non ci può essere contraddittorio ma c'è ovviamente il diritto di replica con qualche minuto in più perché ho lasciato possibilità di retorica ma altrettanto ci può essere qualche minuto in più per la replica. Se ne occupa il consigliere Spialtini? Sì, allora io cercherò di essere breve anche nella replica. L'interpellanza non ha in nessun modo, insomma da parte nostra, di creare situazioni allarmanti all'interno dell'ufficio o creare confusione eccetera. si chiedeva relativamente a quei crediti un chiarimento in merito alla tempistica di evasione eccetera. Poi visto anche l'affidamento del recupero crediti all'Agenzia delle Entrate che periodicamente e politicamente è soggetta a saldo estralcio, adesso probabilmente si riesce eventualmente anche le quote capitali delle multe a ovviarle a fare un discorso più generale. Ora, se la collaborazione che noi vogliamo dare all'interno di queste interpellanze è presa come un atto di ostilità, questo non era il nostro intento. Il nostro intento era solo portare in consiglio questa decisione su dei crediti che comunque, insomma, o bene o male anche nei confronti di chi paga le multe, di chi paga l'Imu, la Tasi eccetera, dovremmo darne conto. Un'ultima cosa, poi il fatto che le imposte, l'Imu, la Tasi vengono recuperate dopo crea anche una situazione di disagio anche nei confronti del contribuente che magari in buona fede può anche sbagliare a formulare anche il pagamento dell'Imu o della Tasi. Se si arriva subito, io questo l'ho già detto tempo fa, se si arriva subito a correggerlo anche con degli avvisi bonari eccetera, non si arriva a un'enormità di crediti che poi la maggior parte. Questo era il nostro intento. Ripeto, affidarsi a un esattore che poi, bene o male, soggiace a saldi e stracci eccetera, non è una bellissima cosa. Quindi, quello che avevo già detto nei precedenti consigli, cercate di affidarvi, come ho constatato, a degli esattori che non hanno questa spada di Tasi. Quindi, questo era il contesto dell'interpellanza. Se voi la intendete diversamente, va bene, ne prendiamo un attimo. Prima di passare al 2 bis, a questo punto c'è la possibilità di una chiosa finale. Benissimo, passiamo. Se c'è soddisfazione della risposta possiamo procedere. Giustamente il Presidente ha dato un'indicazione che è quella di non intervenire, perché sulle interpellanze non si interviene. Se possiamo fare una piccola deroga intervengo, altrimenti mi dite non intervenire. Visto che abbiamo, ci siamo presi qualche minuto in più, che la maggioranza si è presa qualche minuto in più, prego, di certo non impedisco la retorica. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Era semplicemente per constatare un dato di fatto. Ho visto un po' di irritazione nei confronti del Sindaco nel rispondere a questa interpellanza. Però, signor Sindaco, il lavoro della minoranza, che già conta poco di per sé, è quello di di chiedere delle lucidazioni in merito e quindi come abbiamo già fatto in passato e come faremo anche nel prossimo futuro. Quindi se vi sollecitiamo a delle risposte è perché ci teniamo particolarmente alla città e ai nostri cittadini. Faccio presente che si sta parlando di un importo che è superiore a un milione di euro, perché non so se l'avete capito. I cittadini forse che ci stanno ascoltando non l'hanno ancora. Si tratta di oltre un milione di euro che non entreranno più nelle casse comunali. Quindi è un problema serio al quale noi abbiamo messo attenzione e volevamo chiedere appunto delle lucidazioni in merito. Vi chiedo di ribadire al microfono che siete soddisfatti per la risposta alle interpellanze. Vi chiedo di dirlo al microfono acceso in modo da procedere al punto 2 bis. Siamo soddisfatti. Grazie. Benissimo. Procediamo al punto 2. Comunicazione delle variazioni compensative tra dotazione di missioni e programmi, limitatamente alle spese di personale approvate dalla giunta comunale con atto numero 224 del 24 11 2022. È una comunicazione quindi non prevede discussione né votazione. Lascio la parola alla dottoressa Vanoli. Grazie. Allora, visto le solite delibere propedeutiche di approvazione del bilancio di provvisione, documento unico di programmazione, richiamata anche la delibera di giunta comunale della 224 del 24 11 22 che ha per oggetto la variazione compensativa tra dotazioni di missioni e programmi limitatamente alle spese del personale e rettifiche quindi della cassa. Il contestuale aggiornamento del DUP 2022-2024 è praticamente un semplice spacchettamento nei vari capitoli del personale delle quote destinate alle performance dei dipendenti relative all'anno 2022. Grazie dottoressa Vanoli. Passiamo al punto 3 dell'ordine del giorno. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dal Comune di Garlasco alla data del 31 12 2021 ai sensi dell'articolo 20 decreto legislativo numero 175 del 2016 e successive modificazioni in integrazioni. Lascio la parola ancora alla dottoressa Vanoli. In che c'ho voce? Devo richiamare il decreto legislativo 175 del 2016, il TULPS, che saltiamo un attimo, bravo, vado un attimo. Questo adempimento è obbligatorio da fare entro il 31 12 di ogni anno. Ci riferiamo, grazie, alla razionalizzazione periodica delle partecipate pubbliche alla data del 31 12 2021, perché si fa riferimento all'anno precedente. C'è correlata una relazione tecnica? Questo Comune è tenuto ad effettuare proprio l'analisi dell'assetto delle società di cui ditiene delle partecipazioni sia dirette che indirette. Le partecipazioni societarie che riguardano il Comune di Garlasco, quelle dirette, sono relative a SM, ASM, impianti e servizi ambientali, SPA, la quota di partecipazione è il 2,09%. ASM, Vigevano e Lomellina, SPA e la quota di partecipazione è lo 0,207. Poi invece le partecipazioni indirette che sono ottenute tramite la società ASM, Vigevano e Lomellina, sono ASM, impianti e servizi ambientali, pavia acque, ASM, energie, Vigevano e distribuzione. Tutte queste società sono in attivo e hanno degli utili. Le partecipazioni dirette del Comune sono oggetto di mantenimento, non c'è alcun intervento di razionalizzazione. L'organo di revisione ha redato solo una ricognizione in quanto non è tenuto a dare un suo parere, soprattutto in considerazione che le società sono tutte in attivo e non hanno perdite. Si dà atto che questo ente non è presente con i propri rappresentanti all'interno degli organi di governo delle società di ASM, ISA e ASM, Vigevano e Lomellina. Non è stata redata la relazione sullo stato di razionalizzazione delle partecipate, in quanto nell'anno precedente non abbiamo dismesso nessuna partecipata, quindi non era necessario. C'è legata la rilevazione per la revisione periodica delle partecipate al 31-12-2021, dove si evince che la prima partecipata diretta è ASM, impianti e servizi ambientali, è una società in house, infatti l'affidamento è stato proprio un affidamento in house, per quanto riguarda il bilancio, il risultato di esercizio ha un utile di 267.418, la quota diretta è del 2,09, per il comune svolge dei servizi, che è il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, l'importo impegnato nell'anno oggetto dalla rilevazione di 998.391,91 sono proprio gli impegni di competenza dell'anno 2021, gli oneri di contratto del servizio ci sono gli impegni per 1.225.062,55 che è la somma dei pagamenti in competenza e anche i pagamenti in residui, sono stati distribuiti dei dividendi per un totale di 12.558,14, il totale degli utili distribuiti nell'anno, c'è un debito nei confronti della partecipata che è 167.473,60 che praticamente sono le fatture di dicembre che vengono emesse al 31.12 e il primo di gennaio, quindi sono gli importi che verranno pagati subito da noi a gennaio. L'altra partecipata di rete è SM Vigevano e Lomellina, a questa società non abbiamo affidato alcun servizio, però il servizio è svolto da una sua partecipata, quindi un'indiretta e siamo quindi costretti a tenerla, non possiamo dismetterla. Anche lei è una società in house, ha un risultato di esercizio nel 2021 di 1.351.447, la quota diretta è lo 0,207, la partecipata appunto abbiamo detto che non svolge direttamente dei servizi per l'amministrazione, quindi tutta la parte dei dati contabili derivati dal rapporto di partecipazione è pari a 0, abbiamo però dei dividendi che incassiamo pari a 2.211,56 e si mantiene senza particolari interventi. La prima indiretta che troviamo è Paviaacque, Paviaacque è proprio la società in house che svolge per il comune di Garlasco dei servizi, praticamente tutta la gestione del comparto idrico, ASM Vigevano e Lomellina detiene il 19,19% di questa società, il risultato di esercizio è 1.117.848, l'importo impegnato nell'anno di rilevazione, quindi gli impegni per pagare sostanzialmente la fornitura di acqua nel 2021 è 65.037,84, ci sono sempre gli impegni per 90.140,67 che è la somma dei pagamenti competenza più residui. vediamo per quanto riguarda Paviaacque che nella parte relativa comunque sempre al rapporto delle partecipate, grazie, c'è altre intate da organismi partecipati, in questo caso sono 22.347,70 che praticamente è la quota rinegoziata, è il rimborso dei mutui del comparto idrico che ci viene ridato da queste società. Poi c'è ASM Energia S.P.A. che non dà servizi per l'ente, non è una società in house e tutte le parti contabili non sono evidenziate che vigevano distribuzione gas che anche lei non fornisce i servizi per l'ente. L'ultimo allegato che troviamo è il censimento dei rappresentanti e degli amministratori presso gli organi di governo che come abbiamo detto non sono presenti. grazie dottoressa Vanoli, dichiaro aperta la fase di discussione se ci sono interventi. Consigliere Spialtini, prego, ne ha facoltà. No, io ho una cosa al volo, adesso io non sono riuscito a approfondire questo punto anche per la tempistica nostra. La ricognizione che ha fatto il revisore era sul consolidato del 2021, quindi non ha avuto dei previsionali del discorso. Solo questo. Se ci sono altri interventi, prego, consigliere Rossato. È soltanto una comunicazione di servizio, nel senso che mi sono accorto che anche il sindaco si è reso conto che consegnare all'ultimo minuto, nel caso nostro, l'interpellanza diventa un po' difficile, puoi trattarla con gli impegni assunti, il personale e quant'altro. Ecco, io vi dico che l'ordine del giorno è stato notificato il 22 e oggi è il 28 e quindi voi avevate un punto che è una interpellanza. Noi abbiamo otto punti all'ordine del giorno e sono diventati poi 9 con la nostra interpellanza. Voglio dire che il 22 era praticamente l'antivigile di Natale, poi abbiamo fatto Natale, Santo Stefano, eccetera. Ecco, se riusciamo magari nel prossimo futuro ad avere la documentazione, diciamo, un po' più per tempo, siamo tutti felici con te. Grazie consigliere Rossato, ma io richiamo l'articolo 12 parte 1 dello statuto e la convocazione del Consiglio Comunale in sessione straordinaria. Sono necessari tre giorni liberi precedenti, ne abbiamo dati sei, quindi insomma capisco che ci sono in mezzo alle festività natalizie come appunto per la maggioranza si è riscontrata la problematica di rispondere in tempo all'interpellanza che è stata da vostra richiesta inserita e quindi insomma diciamo che è un caso particolare dettato dalle festività natalizie, tendenzialmente si cercherà sicuramente di rispettare qualche giorno in più per permettere di leggere anche con attenzione gli allegati, ma i tempi giuridici e burocratici sono stati assolutamente rispettati. Comunque grazie assolutamente per l'osservazione. Se posso? Certo, certo. Condivido che ci siano in termini di legge i giorni, però sappiate anche che all'interno di questi tre giorni, quattro giorni, cinque giorni c'era una antivigilia di Natale, Natale, Santo Stefano e quindi la prossima volta magari pensiamoci un attimo, poi condivido pienamente il fatto che siano stati rispettati tre giorni per il Consiglio straordinario. La risposta però mi sembra un po' inaccettabile. Tra l'altro magari voi pensate che i pensionati facciano meno di quelli che lavorano, in realtà i pensionati sono molto più impegnati di quelli che lavorano, nel mio caso, parlo per me. Assolutamente. Grazie comunque per l'osservazione. Passiamo alle votazioni del punto numero tre, votanti undici, voti favorevoli otto, voti contrari nessuno, voti astenuti invece tre, sono i consiglieri spialtini, melotti e rossato. Votiamo per l'immediata eseguibilità del punto numero tre, i votanti sono undici, i voti favorevoli sono otto e gli astenuti i medesimi nomi poc'anzi citati. Quindi il punto tre è pertanto approvato con immediata eseguibilità. Passiamo al punto quattro, variazione al bilancio di previsione 2022-2024 ai sensi dell'articolo 175 decreto legislativo numero 267 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni aggiornamento contestuale del DUP 2022-2024. Lascio la parola alla dottoressa Vanoli per illustrazione. È una variazione di bilancio particolare in quanto come sappiamo le variazioni di bilancio si possono portare in consiglio comunale, devono essere approvate dalla giunta entro il 30 di novembre o dal consiglio e poi ratificate. In questo caso invece sono una variazione ai sensi dell'articolo 175,3 del decreto legislativo 267 del 2000 e proprio per le tipologie di entrata a destinazione vincolata. Quindi tutto quello che trovate in questa variazione sono tutte entrate con delle destinazioni vincolate, altrimenti non avremmo potuto fare questa variazione. Ricambiamo sempre DUP la delibera di approvazione del bilancio, il PEG, nonché il parere allegato del revisore. Entro nel dettaglio delle entrate. Allora, il decreto legge del 27 novembre 2022-197, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ad oggetto le misure urgenti in materia di accise sui carburanti a sostegno degli enti territori e dei territori delle marche colpite da eccezionali eventi atmosferici, prevede un ultimo e quinto rifinanziamento del cosiddetto fondo caro bollette. Quindi viene data una quinta tranche agli enti locali per sostenere queste ingenti somme da destinare al caro bollette. L'importo non c'è ancora, quindi abbiamo riparametrato sui 130 milioni destinati ai comuni la quota per il comune di Garlasco che dovrebbe risultare pari a 28.980 euro. E questa entrata è proprio vincolata quindi a coprire i maggiori costi degli utenze. Altre entrate vincolate sono i trasferimenti statali relativi al PNR digitalizzazione, più precisamente l'adozione della piattaforma Pago.pa per 39.422 accettato e finanziato. Adozione App.io accettato e finanziato per un importo di 4.116. Esperienza del cittadino nei servizi pubblici è stato solo accettato per 155.234. Piattaforma notifica digitali accettato per 32.589 e piattaforma digitale nazionale dati, candidatura inviata per un importo di 20.344. Un terzo importo vincolato deriva dal decreto Regione Lombardia numero 17.193 del 28.11.22. È relativo a una legge del 1989, precisamente la 13, che destina dei fondi per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Vengono fatte delle richieste dai cittadini al Comune. Il Comune trasferisce alla Regione. La Regione finalizza degli importi facendo appunto dei decreti a cui allega degli elenchi. Questo elenco è quello relativo all'anno 2020, destina i soldi al Comune che poi li riversa alle persone che hanno fatto richiesta. Un'ultima sempre entrata vincolata è relativa al Distretto del Commercio, che con decreto della Regione Lombardia 17.508 del 30.11.22. È stata approvata una graduatoria delle domande presentate relative al bando sviluppo dei distretti del Commercio 22.24, il quale contiene l'indicazione dei contributi che sono stati destinati al bando del nostro distretto. Più precisamente a Garlasco sono stati attribuiti 15.563 euro e invece agli altri Comuni un totale di 59.438 poi da suddividere. Di questo distretto del Commercio il Comune di Garlasco è capo convenzione. Grazie dottoressa Vanoli. Se ci sono degli interventi in merito al punto 4, prego consigliere Spialtini, prego. Non c'è Carlo Camera, devo farlo. Allora, io relativamente al punto 4 siamo nel 175 del comma 3, giusto? Quindi sono entrate vincolate sia in conto esercizio del conto capitale. Ora, in conto esercizio sono 63.925. Le emissioni di spesa sono queste qui, cioè praticamente questi soldi qua che sono per il caro bolletto, giusto? Allora, per quanto riguarda in entrata, in entrata caro bolletto è 28.980 nella parte corrente, poi ci sono 20.000 euro relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche, 14.945 relative al distretto del commercio e la quota della parte corrente, cioè quella che viene destinata alla società che ci ha seguito. Per quanto riguarda il caro bolletto, cioè qua andiamo nel microscopio mentre per la parte capitale andiamo col binocolo, cioè sono investimenti a lungo termine, giusto? Qua interveniamo direttamente. Per quanto riguarda il caro bolletto ho visto che insomma sono 28.000 euro che sono rideterminati, praticamente finiscono 6.980 per l'istruzione, quindi per coprire bollette, giusto? Le do il dettaglio. Fornitura energia elettrica relativa alle scuole elementari 3.000 euro, fornitura energia elettrica a scuole medie 3.980, utenze degli alloggi ERP 6.000 euro, riscaldamento in pianti sportivi 5.000, fornitura energia elettrica in pianti sportivi 5.000, gas metano della cucina di via Toledo 6.000. Basta, l'ho lanciata, mi è tornata la voce. Il criterio, come sono stati declinati? In base, abbiamo guardato gli stanziamenti a bilancio e abbiamo verificato dove, in base alle bollette che abbiamo ricevuto fino ad oggi, facendo una proiezione al 31-12, quanto ci poteva mancare? Ma faccio, mi diceva, per quanto riguarda il discorso dello sport e tempo libero, 10.000 euro finiscono per coprire bollette e riscaldamento di? Sì, fino al 31-12 degli impianti sportivi, per cui saranno il palazzetto dello sport. Quindi in parte via Maddalena, in parte palazzetto dello sport, ci sono anche degli utenti privati, giusto? Che vengono soccoliti anche da soggetti. Ci sono delle concessioni. C'è le persone che utilizzano le palestre? No, dico delle AS di... Società sportive, sì. Certo che loro hanno dei costi. Esatto, perché a proposito dei costi, ho visto nella vostra giunta che praticamente avete concesso, penso che sia in conto esercizio, al volley, pallavolo, una somma in conto esercizio. Conto esercizio intende la parte corrente? No, non per voi, per la SD. La ratizzazione intende? Non è la stessa cosa? Il contributo che è stato regato? Non è che viene la stessa cosa, no. No, è un contributo che veniva dato alla società sportiva, ma in realtà poi l'abbiamo trattenuto perché ci doveva versare delle quote e di conseguenza se una società deve versare delle quote non gli posso dare un contributo, lo trattengo e saldo le quote di versare. Poi per quanto riguarda il discorso del commercio rete distributive 14.945, questo impegno, questa missione qua? Sì, è relativa alla... Cerco di essere diretto, chi vanno questi soldi? All'Adita Celit, non sbaglio, che è la società che ci ha seguito proprio e ci ha indirizzato per questo distretto del commercio, predisponendo tutte... Quindi non vanno direttamente ai commercianti? No, quella quota lì va soltanto, ce la rimborsa totalmente la regione, quindi il Comune non sostiene costi. Quindi non sono i commercianti, ma vanno loro. Poi tornando al discorso della... Questa è relativa ai commercianti, mi scusi, c'è... No, 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 ci arrivo. Per quanto riguarda la spesa invece di missione 14, quella di 75.000 euro, mi diceva che a Garlasco sono 15.000. Sono 15.000 e la diversità viene... Invece sono tutti altri importi destinati. Perché noi siamo capo fina. Sì. Quindi noi abbiamo tutta la struttura per gestire questi 75.000 euro dei vari comuni e il Comune si ritrae 15.000 euro. Sì. Ma mentre per quanto riguarda la statistica e i sistemi informativi, qua la stessa cosa oppure... perché vedo la missione 1, 250.000 euro. Sempre in conto capitale. Ah, questo qui è il totale di tutte le spese del PNR. Ma qua siamo lo stesso. In conto capitale. Siamo solo qui, capofila o anche altrove? No, per il PNR è una cosa a parte, una destinazione vincolata che lo Stato dà al Comune. E sono tutti i soldi che trattiene il Comune. Un'ultima cosa. Io gliel'ho già evidenziato, però... Scusi Spiattini, l'unico è quello lì del commercio. Sì. Tutti gli altri siamo soli e basta. Un'ultima cosa. Io gliel'ho già, nell'allegato, il suo curriculum non ha anticipazione di cassa. Confermo. Quindi conferma nel suo curriculum, non le ha, non le vuole avere. No. Quindi quello che vedo io, di cui utilizzo l'anticipazione di liquidità, è un refuso. Quindi non c'è lì. Non c'è. Confermo. Grazie, consigliere Spiattini. Se ci sono altri interventi, non ci sono altri interventi. Passiamo quindi alla votazione del punto numero 4. Votanti 11, voti favorevoli 8, voti contrari 3, Fialtini, Melotti, Rossato. Per l'immediata eseguibilità del punto 4, votanti 11, voti favorevoli 8, voti contrari 3, i medesimi nomi che anzidetti. Quindi il punto 4 è approvato con immediata eseguibilità. Passiamo al punto 5, regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale unico di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvazione e modifiche con decorrenza 1.1.2023. Lascio la parola nuovamente alla dottoressa Vanoni. Vengono apportate delle modifiche con decorrenza dal 1.1.2023, regolamento pubblico, per l'applicazione del canone unico, per l'occupazione del suolo pubblico e l'esposizione pubblicitaria del canone mercatale. Andrei direttamente a elencarvi quelle che sono le modifiche apportate. La maggior parte sono dovute proprio all'evoluzione della normativa in materia. E' stata spostata la data di scadenza annuale dal 31 gennaio al 30 marzo, praticamente su tutto, sull'occupazione, sul mercato, sulla pubblicità, per uniformare tutte le scadenze in un'unica data. Tant'è vero che anche negli anni precedenti, nonostante che la scadenza era il 31 gennaio, veniva sempre richiesta una proroga che veniva data con determina, perché non c'erano i tempi tecnici per riuscire a indirizzare degli avvisi. Di conseguenza si è ritenuto opportuno proprio deliberare questo cambio di scadenza. Poi rinuncia e cessazione volontaria. In assenza di variazioni, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi. Tale pubblicità si intende prorogata sempre che non venga presentata una denuncia di cessazione entro il 30 settembre dell'anno precedente. Prima questa data era il 31 gennaio, che era la stessa data dentro cui dovevano uscire gli avvisi. Di conseguenza si è preferito anticipare, dare un distacco, in modo tale che quando escono i pagamenti siano più veritieri possibile. Le modalità di applicazione del canone viene applicato anche quando ci sono delle iscrizioni pubblicitarie costituite da lettere anche separate, anche se queste lettere sono a notevole e distanziano dall'altra. La pubblicità temporanea, che sarebbe l'articolo 31,3, che in caso di esposizione pubblicitaria temporanea di una derata superiore ai 30 giorni si applica per ogni mese o frazione di mese successivo al primo il luogo della tariffa giornaliera, invece la tariffa annuale frazionata in dodicesimi. E questo è un vantaggio per il contribuente in quanto verrebbe a pagare meno. La modifica dell'articolo delle antenne, questa è stata presa atto di una norma di legge, è stata modificata, in quanto ora le antenne, i proprietari di antenne devono versare all'ente 800 euro, che è pari a questo canone deciso dallo Stato per ogni antenna presente sul territorio. Il versamento del canone mercatale, in realtà questa parte c'era anche prima, però abbiamo preferito riscriverla in modo più chiaro, cioè che la tariffa giornaliera deve essere abbattuta del 30%, come previsto dall'articolo 1 del comma 843 della legge 160-2019, suddiviso per 24 ore, moltiplicata per un massimo di 9 ore, che è il periodo di occupazione mercatale in ragione della superficie. Per quanto riguarda il metodo di pagamento, è stato inserito il metodo di pagamento Pago PA, che ormai spopola. Inoltre è stato inserito il ravvedimento e l'accertamento, nel senso che queste ci sono da sempre, ma non erano mai state inserite all'interno di un regalamento, quindi abbiamo preferito entrare nel dettaglio e inserire tutto quello che riguarda la normativa di questo canone. L'ultima parte, quella degli automezzi, che per le pubblicità sui veicoli ed automezzi il canone indicato nelle rispettive fasce di appartenenza è ridotto di un terzo, qualora la superficie espositiva superi i 2,5 metri quadri. Grazie, dottoressa Vanoli. Chiedo se ci sono interventi. Prego, consigliere Rossato. Siamo sostanzialmente d'accordo e quindi voteremo a favore a questo punto l'ordine del giorno, però volevo ricordare a questo Consiglio Comunale che circa un anno, un anno e mezzo fa parlavamo anche di una pacheca affissa ad una struttura privata e avevamo discusso di questa bacheca che sostanzialmente ne fa una pubblicità elettorale e l'allora sindaco Farina con la metà dei consiglieri attuali in questo Consiglio si era impegnata ad eliminare la bacheca o eventualmente a fornire una ulteriore bacheca per le minoranze consigliari. Ecco, questo a distanza di quasi due anni non è stato fatto e continua ad esserci questa bacheca in bella vista e ne fa tuttora una pubblicità, una propaganda elettorale. Ecco, io, siccome ho capito, se ho capito bene, si parla di 30 giorni, qui siamo a quasi due anni, vorrei capire ma la pubblicità all'interno di quella bacheca chi la paga? Di chi è la proprietà di quella bacheca? C'è un'autorizzazione per far sì che quella bacheca rimanga lì? Chi è il proprietario? Chi ha dato l'autorizzazione per fare... Perché dopo due anni quella bacheca è ancora lì e non abbiamo avuto possibilità? Non dico per la nostra minoranza, ma per le minoranze che ci saranno anche in futuro. sarebbe proprio il caso di mantenerla. Devo dire che sinceramente da un punto di vista estetico fa proprio pena quella roba lì. Sembrava un po' come la pubblicità di qualche anno fa di quel cartellone che c'era davanti al barcommercio che poi fortunatamente qualcuno si è degnato di farlo togliere. Ecco, vorrei capire qual è l'intenzione vostra al di là del fatto che noi voteremo a favore su questo punto all'ordine del giorno. Lascio la parola al sindaco per la risposta. Prego, sindaco. Rido in senso buono, non è offensiva la mia risata. Dunque, non ho che una vera risposta. Capisco che la mia faccia magari non le piace a Rossato, magari lì in bacheca. Detto questo, purtroppo ho vinto e quindi sono il sindaco di Garlasco quindi la mia faccia lì ci rimane per un po'. Ho capito il ragionamento. La bacheca noi siamo autorizzati dalla signora Gobbi che è la proprietaria delle mura e noi paghiamo una cifra alla signora Gobbi per annualmente quindi fondamentalmente è un rimborso che diamo alla signora per l'utilizzo della bacheca. Quindi questa è la risposta su quella bacheca lì che fondamentalmente viene utilizzata da me in questo momento da Farina e immagino, non so se la utilizzava sono onesto, non so se Lenzo Spialtino la utilizzava e la utilizzerà il signor Bianchi probabilmente fra un po' di anni al mio posto. Per quanto riguarda invece la seconda bacheca sulla minoranza io non ho una risposta io questa cosa non me la ricordo c'era ancora il sindaco Farina quindi non ho una risposta. Se magari si ricorda qualcosa Sant'Agostino volentieri. Prego Assessore Sant'Agostino Sì, buonasera a tutti nello specifico non mi ricordo sulla seconda bacheca o meno ecco come diceva appunto il sindaco viene utilizzato in via Bonaria con il permesso appunto della proprietà della bacheca stessa ecco ribadisco che nel periodo comunque elettorale nei 30 giorni elettorali non viene utilizzata ecco quindi per non rientrare poi nelle sanzioni nel momento in cui c'è c'è il discorso elettorale adesso non so fino a se a questo punto una proprietà privata deve essere cioè obbliga l'amministrazione a farne un'altra per per un altro gruppo di minoranza o di maggioranza che ci sia ecco questo non lo so dire possiamo anche comunque tirarla via e non utilizzarla più visto che finisce l'anno e quindi vedremo di parlarne al nostro interno ecco però cioè essendo una vetrina privata non lo so ecco se se poi l'amministrazione si deve impegnare a fornirne un'altra anche a un altro gruppo eventualmente politico in questo caso direi che possiamo potete essere lui ecco sinceramente mi cogli direi che possiamo magari informarci capire un attimino e dare una risposta consigliere lo Stato vuole aggiungere qualcosa prego consigliere lo Stato grazie va bene non è il massimo della vita vedere il viso tutti i giorni di Simone Molinari però non togliamola perché ci sono altri visi molto più carini che possiamo che possiamo tranquillamente guardare tutti i giorni no vabbè la risposta è abbastanza come dire diplomatica io però vi chiederei un impegno nel senso che se c'è una espressione della maggioranza che ci sia anche ripeto al di là di quello che siamo noi oggi un'espressione della minoranza per le pari opportunità insomma quindi vogliamo toglierla togliamola per me toglierla togliamo un qualcosa che può dare anche delle informazioni non soltanto politiche ma anche amministrative volendo e quindi potrebbe essere tranquillamente anche un'altra bacheca magari trovando insieme o concordandolo insieme un altro spazio e non lì anche per la minoranza prego consigliere spettino beh magari non con la mia faccia se volete mettere la vostra io no ok no nel senso sa mai ecco allora sugli annunci funebri la mia no 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 infatti sì sì ecco dicevo posso non lo so magari condividere l'utilizzo di una bacheca ecco l'utilizzo di quella bacheca di fondamentalmente però noi non diamo nessuna notizia cioè fondamentalmente c'è la squadra che ha vinto ecco nulla di no nel senso che posso condividere che minoranza ha bisogno di una bacheca però cioè nel senso non so se la logica mi porta a dire la minoranza affligge cioè nel senso pubblica opposizione all'interno della bacheca cosa nel senso che io non la utilizzo per comunicazione ai cittadini cioè era per capire cioè se c'era una logica nell'utilizzo di questa bacheca cioè nel senso le bacheche comunali hanno una logica sotto qua che comunica non so cosa c'è teatro gli avvisi di qua e di là quella bacheca è una bacheca che noi paghiamo privatamente dove c'è la la mia faccia la faccia di farina prima che rappresentava la squadra che in quel momento sta diciamo governando la città se voi volete una bacheca per mettere il viso della minoranza e questa la no non so era per dare scusi era per dare una logica e per capire consigliere Spialtini secondo me da intendere allora è giusto che ci sia c'è città insomma questa è quella non c'è il discorso è magari se ci fosse un'altra visibilità per altre situazioni che una par condicio chiamiamola così non per me cioè magari se qualcuno ha delle iniziative particolari esponenziali da da palesare questo è il senso poi ripeto che ci sia uno che ci sia l'altro non è che prego facendo mette locale tutto era nato nel 2010 quando diciamo l'area centro-sinistra utilizzava quella l'imbocco di via Santissima Trinità e quindi nel 2011 quando c'è stata la prima candidatura a Farina ecco l'area di centro-destra che era così si era presa questa questa bacheca di cui stiamo parlando stasera facendo mette locale da dove è arrivata questa iniziativa è partita da lì da quegli anni lì insomma però vediamo di rivedere un po' la cosa e di pareggiare non so vediamo un po' di discuterne Rossat prego consiglio possiamo trovare una soluzione che vada bene per entrambe in una zona diversa da quella che è il centro della città abbastanza come dire visibile in modo tale che si tolga una roba che è indecente lì davanti e poi uno mette le comunicazioni che intende mettere insomma sia da un punto di vista politico che da un punto di vista anche amministrativo siccome noi non facciamo parte dell'esercito dei selfie abbiamo difficoltà di comunicazione ma perché è indecente e allora chiediamo in modo molto pacato se ci date ma perché è indecente non capisco come? no no ma meno cioè meno male che la posizione della bacheca è indecente cioè nel senso che non le piace la posizione lì poi che ci sia la sua faccia o la faccia di un altro va bene lo stesso a me non piace la posizione lì perché già la piazza è maltrattata con la M maiuscola quella lì fa parte del maltrattamento della piazza insomma ecco grazie grazie consigliere Rossato passiamo se non ci sono ulteriori interventi alla votazione del punto numero 5 votanti 11 voti favorevoli da quello che ho capito 11 per l'immediata eseguibilità votanti 11 voti favorevoli 11 pertanto il punto 5 è approvato con immediata eseguibilità all'unanimità passiamo al punto 6 dell'ordine del giorno ulteriore proroga della convenzione con il comune di Dorno per la gestione del SUAP cambiamo relatore lascio la parola all'assessore Tosi prego assessore Tosi sì buonasera allora in data 5 dicembre abbiamo ricevuto la richiesta del comune di Dorno di proroga della convenzione per la gestione del SUAP è una proroga quindi la convenzione è già in estere da già alcuni anni e sulla base della nostra esperienza questa convenzione non inficia sulla produttività dell'ufficio pertanto riteniamo si possa prorogare la convenzione per questa gestione ma non inficia sulla produttività ma non vuol dire che l'ufficio ha del tempo diciamo da perdere per altri comuni ma semplicemente parlando anche con l'impiegata dell'ufficio e con il capo area siamo reso conto che semplicemente moltiplicando l'impegno riesce a superire sia alle esigenze della comune di Dorno che a aspettare tutte le funzioni necessarie per il comune di Garlasco quindi secondo noi la convenzione può essere prorogata grazie assessore Tosi se ci sono interventi in merito prego consigliere lo Stato grazie assessore Tosi però come del resto l'abbiamo già abbondantemente dichiarato nelle passate adunanze nel momento in cui si andava ad approvare una convenzione per servizi con comuni limitrofi noi siamo contrari assolutamente contrari perché invece riteniamo che si portino via delle disponibilità e delle capacità del comune di Garlasco verso altri comuni credo che da un punto di vista personale da un punto di vista lavorativo professionale sia anche gratificante per chi svolge o svolgerà queste attività anche forse da un punto di vista economico credo ecco però ribadiamo il concetto che secondo noi come dire spostare verso altri enti attività porta via del tempo e porta via della professionalità il comune di Garlasco quindi voteremo contro non soltanto a questa convenzione ma anche a tutte le altre ho visto tra l'altro in una delibera di giunta che due agenti di polizia locale sono stati come dire avete approvato una con delibera di giunta appunto la possibilità di dedicare tempo dell'agente verso Villanova Dardenghi no no ma d'accordo però siccome io ho esperienza in materia e conosco che cosa vuol dire fuori orario da servizio mi sono subito preoccupato e quindi questa preoccupazione la rivolgo anche all'assessore alla polizia locale siate preoccupati perché il fuori lavoro poi alla fine diventa un'altra cosa ecco perché noi voteremo contro a questo tipo di convenzioni ha chiesto di intervenire il sindaco prego sindaco sì allora grazie per l'intervento consigliere Rossato dunque il tasto delle convenzioni è un tasto che ho già risposto a voi una volta dicendo che lo condividevo mi ricordo il vostro pensiero sul fatto che spesso volentieri ho detto a dei nostri dipendenti che io sono stato votato per gestire il comune di Garlasco e non per gestire altri comuni è così quindi non ci posso fare nulla quanto ritengo che ovviamente le convenzioni possono portare quindi condivido con lei del tempo ridotto sul comune di proprietà quindi il comune di proprietà titolare del dipendente spesso volentieri vabbè in questo caso come ha spiegato l'assessore Tosi non questo evento del suo app di DOR non ci crea problemi principalmente problemi dato anche il fatto che le convenzioni portano a uno sgravio sullo stipendio del dipendente per quanto riguarda il nostro comune quindi noi possiamo lavorare avendo alcune convenzioni per comunque poter magari assumere una persona in più o gestire i soldi magari sui personali in maniera diversa comunque condivido il fatto che le convenzioni alcune debbano essere portate avanti alcune no infatti vedremo anche nel punto dopo un cambiamento su un'altra città quindi insomma a favore a quello che dice lei insomma quindi ci sia una riduzione di convenzioni su altre città alcune vengono io parlo città paesi insomma vengono mantenute ecco poi devo anche fare un esempio di fianco a me che grazie a un comune noi abbiamo la dottoressa Vanoli che è una convenzione quindi io reputo che spesso volentieri anche se noi siamo un comune diciamo forte e spesso volentieri potremmo non avere bisogno di convenzione insomma a volte magari anche noi stessi una convenzione può farci comodo quindi concludo e dico condivido sul che le convenzioni potrebbero essere a volte non so definiamolo un danno magari forse esagerato ma potrebbero creare problemi alcune volte invece no io sto molto attento a fare nuove convenzioni diciamo quelle convenzioni che voi vedete fondamentalmente rispetto al 2022 saranno nel 2023 ridotte rispetto al 2022 ha chiesto di intervenire il consiglio Spialtini prego il consiglio Spialtini allora io sempre relativamente alle convenzioni non in modo relativo ma in modo assoluto io ho fatto un accesso agli atti per soprattutto per il costo del personale le somme l'importo delle somme della spesa le somme escluse eccetera ora tipicizzando quello che accade cioè praticamente cosa succede nella nelle convenzioni praticamente in qualsiasi ente se io ho un dipendente che ha poco da fare sto cercando di tipicizzarlo e non non mi rende cioè il fatto di averlo allora magari se c'è qualcuno che gli serve io gli presto quel dipendente glielo distacco il famoso distacco il distacco cos'è che presuppone presuppone che il costo che io ho lo devo ribaltare a quello dove va il dipendente dove va tant'è che non posso avere un delta cioè non posso avere un margine quindi tutto il costo che io ho mi viene riversato dall'ente quindi io oltre a non avere quel dipendente il mio costo si azzera perché praticamente io lo do distaccato e mi ritorno ora qual è la controprova il fatto che io distacco quel dipendente e poi devo verificare come diceva l'assessore Tosi che il cruscotto della reddittività delle performance rimango uguale quindi che ci sia un audit penso che venga fatto periodicamente un audit di riscontro della produttività e che non scenda la produttività cioè se ci sono gli accessi agli atti se ci sono le richieste documentali tutto quello che ci deve essere deve essere produttivo perché nel momento in cui io ho un calo di quella produttività non va bene ok marginalmente quel costo mi riduce il costo del personale per per il patto di stabilità quindi un piccolo significativo impatto ce l'ha questo non è vero che non ce l'ha a bilancio a bilancio ce l'ha perciò va bene per l'amor di Dio ripeto quello che abbiamo sempre evidenziato che ci sia la produttività che non cali il riscontro nelle utenze perché insomma anche l'altra volta con l'assessore dall'era insomma l'ufficio è stato chiuso perché mancava eccetera in quel caso non si può distaccare una risorsa del genere quindi quello che chiediamo è che ci sia un riscontro sulla produttività del settore dove è stato distaccato quel funzionario vuole intervenire il signore prego no allora la risposta secondo me per dire quello che ha detto il consigliere Spialtini cioè ci vorrebbe nel senso buono molto tempo perché io che mi occupo del personale ormai da un anno e passa ci sono tanti esempi da fare giustamente lei ha fatto l'esempio dell'assessore dall'era e in quell'esempio lì giustamente io non avrei mai potuto fare una convenzione da parte nostra con un altro comune perché anzi fra un po' chiudiamo noi l'ufficio questa è una cosa palese però ecco quando io parlo di che le convenzioni hanno una logica perché se non noi non avessimo potuto fare una convenzione noi per due mesi non avremmo avuto il supporto di un assistente sociale quindi abbiamo fatto una convenzione con un comune che farei idea perché un comune di Garlasco il fatto che debba è un comune autonomo su questo condivido non dovrebbe avere convenzioni però la sfortuna ha voluto che abbiamo avuto necessità di fare una convenzione per due mesi perché non avevamo avevamo K.O. tutto l'ufficio quindi permetto che io il vostro ragionamento lo condivido e lo porto avanti proprio perché come detto l'anno scorso se non sbaglio non mi ricordo quando si era già il 22 o il 21 e come vi dicevo prima nel 2023 noi avremo una riduzione delle convenzioni del comune di Garlasco quindi condivido che io spesso volentieri devo avere un feedback su quello che i miei comuni scusate i miei uffici fanno se hanno una convenzione ma posso dirvi che all'interno del mio comune capi area o dipendenti che hanno una convenzione fino ad oggi hanno dimostrato di non recare diciamo un danno all'interno della propria attività questo però ripeto è ovvio che rimane una mia opinione non posso diciamo oggettivarla soggettivamente posso dire che siccome è vero l'oggettività potrebbe essere dal fatto che i dipendenti che hanno una convenzione le scadenze che loro hanno vengono tutte rispettate però ripeto io condivido mi sembra di averlo già detto lo ripeto ancora condivido la vostra opinione sulle convenzioni e anche io sto cercando di cercare di centellinarle o comunque di non crearne altre se non necessariamente cioè se non ha necessità chiesto di intervenire l'assessore Tosi prego l'assessore Tosi solo una cosa a riprova di quello che ha detto il sindaco molto probabilmente questa convenzione sarà l'ultima proroga che faremo su questa convenzione del suo a fare una fattispecie quindi solo a dimostrazione di quanto detto dal sindaco prego sindaco scusate non voglio tirar lungo perdonatemi però è una cosa importante anche perché le convenzioni si stanno riducendo il nostro comune possiamo definire che ha una qualità una qualità oggettiva proprio perché abbiamo del personale che è presente all'interno del nostro comune da 40 anni è per quello che gli altri comuni hanno chiesto più volte la nostra qualità parlo di nostro inteso come comune di Garlasco finché sia potuta in parte è stata data attualmente fra un po' non ci sarà più la possibilità di darla perché stiamo sostituendo tutte le pensioni e le persone che vanno ad essere sostituiti hanno bisogno di un affiancamento anche loro e non si può ovviamente perdere tempo in altri enti o altri comuni è per quello che si stanno riducendo anche le convenzioni grazie sindaco ci sono ulteriori interventi passiamo dunque alla votazione del punto numero 6 votanti 11 voti favorevoli 8 voti contrari 3 i consiglieri spialtini melotti rossato per l'immediata eseguibilità del punto 6 votanti 11 voti favorevoli 8 voti contrari 3 i medesimi detti pocanzi il punto 6 è dunque approvato con immediata eseguibilità passiamo al punto numero 7 proroga convenzione con il comune di Alagna e stipula convenzione con il comune di Dorno per la gestione in forma associata delle funzioni di segretiera comunale lascio la parola al sindaco per la relazione sì proprio per agganciarmi in utile che la facciamo lunga nel senso fondamentalmente sulla il paese di Alagna a differenza dell'anno come vi dicevo nel 2022 nel 2023 la convenzione che verranno fatte col paese di Dorno verrà fatta solo la segretaria comunale e la polizia locale tutte le altre ci saranno al 31-12 ok come dicevo per quanto riguarda Dorno permane in convenzione la dottoressa Porta scusa? ah beh se vogliamo precisare sono 10 quindi il totale di 36 ore sono 20 ore su Garlasco 10 ore a Dorno e 9 ore ad Alagna possiamo definire anche sono ore sì scusate 6 ore ad Alagna perdonatemi per quanto riguarda invece Dorno no ah beh va bene sì insomma va bene comunque questo è invece per quanto riguarda no Alagna e Dorno dette a posto questo è scusatemi sono un po' perso sulle percentuali sì no lo volevo precisare ma poi sembrava che diciamo che sono ore di convenzione poi oggettivamente la dottoressa Porta fa molte più ore quindi non sono oggettivabili sono state spalmate per una logica di quantità di abitanti e di ore di impegno nel comune ma nella realtà poi sono molti di più cosa ci sono interventi osservazioni nulla quindi procediamo alle votazioni votanti undici voti favorevoli otto voti contrari tre consigliere Spialtini Melotti Rossato per l'immediata eseguibilità i votanti undici voti favorevoli otto contrari tre i medesimi nomi di prima quindi il punto numero sette è da considerarsi dunque approvato con immediata eseguibilità passiamo al punto numero otto approvazione schema di convenzione tra i comuni di Garlasco e Villanova d'Ardenghi per la gestione in forma associata delle funzioni afferenti servizi finanziari o gestione risorse umane ed entrate tributarie lascio la parola per la relazione al sindaco sì quello che dicevo prima fondamentalmente a noi serve questa convenzione quindi a differenza di altre questa volta serve a noi per tenere la dottoressa Vanoli per 15 ore nel comune di Garlasco e quindi viene fatta la convenzione con il comune di Villanova consigliere Rossato prego contrariamente alle altre convenzioni votiamo favorevole perché per ringraziare la dottoressa che in questo periodo di supplenza si può dire o di reggenza ha dato piena disponibilità e grande senso della appunto del conoscitivo della cosa pubblica a parte ieri che non era disponibile perché era malata grazie comunque per il lavoro che ha svolto e per quello che svolgerà ci sono ulteriori interventi no passiamo dunque alle votazioni del punto numero 8 votanti 11 voti favorevoli 11 per quanto riguarda l'immediata eseguibilità votanti 11 voti favorevoli 11 punto approvato dunque con immediata eseguibilità all'unanimità passiamo all'ultimo punto punto 9 dell'ordine del giorno approvazione schema di convenzione tra i comuni di Garlasco e di Albuzzano per la gestione in forma associata del servizio tecnico comunale proroga anno 2023 per la relazione lascio la parola all'assessore Sant'Agostino sì molto brevemente si tratta della convenzione appunto dell'architetto Petullo col comune di Albuzzano il terzo rinnovo quindi per l'anno 2023 qui in questo caso sono tre ore settimanali sulle 36 a contratto dell'architetto che vengono appunto date al comune di Albuzzano quindi per il comune di Garlasco non vi è alcun costo oggettivo e devo dire che visto la grande professionalità dell'architetto anche dal punto di vista della qualità del servizio che poi presta al nostro comune questa convenzione non fa diciamo così non va ad influire sulla qualità del servizio che l'architetto Petullo comunque garantisce al nostro comune ci sono interventi o di osservazioni consigliere Spialtini prego relativamente a questo punto qua adesso non mi sono stampato l'ordine del giorno relativamente ma lì Albuzzano parla di qualcosa condiviso con Garlasco nel considerato ah nelle considerazioni iniziali vabbè sì sono le solite diciamo così dato atto preso atto che il comune di Albuzzano richiede questa proroga di convenzione perché appunto comunque per l'opportunità di e anche tale strumento giudico assicuro la qualità ottimale del servizio non ci sono forme associate sull'intero territorio interessato associate ma c'è qualcosa di associato con Albuzzano? no in particolare che io sappia non so se no ma quindi quell'associato lì non c'entra niente non c'è niente di associato con Albuzzano ah sì penso che siano l'unico associato allora tutto parte dal premesso che l'articolo 14 c'è il DL bra 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 tutte le norme di legge che prevedono appunto che si possa utilizzare queste forme di convenzione per comunque delle attività associate sull'intero territorio certo è una cosa generica cioè chiaro Albuzzano non è proprio il nostro territorio posso concordare con lei le cose generiche c'erano anche le attenuanti vabbè comunque direi che vabbè sono le solite formule per giustificare questo genere di convenzione ripeto l'architetto questo è il terzo anno sono tre ore settimanali all'interno delle 36 del suo contratto di lavoro con il nostro comune quindi da un punto di vista economico non pesa sulle nostre casse ma se vogliamo guardare è una riduzione di spesa del personale perché viene pagato in quelle tre ore dal buzzano e conoscendo ecco la professionalità appunto della persona e sapendo tutte le ore che fa in più all'interno del nostro comune senza far passare il beige sotto la macchinetta sono sicuramente straconvinto che la qualità del servizio non ne viene meno ecco per quel che riguarda il nostro comune poi avete già fatto considerazioni in merito a questo genere di convenzioni mi associo anch'io sinceramente se si possono ridurre sono anch'io d'accordo ecco sì no non c'è non c'è una convenzione particolare ci sono altri interventi non ci sono quindi procediamo alle votazioni del punto numero 9 votanti 11 voti favorevoli 8 voti contrari 3 consiglieri spialtini merotti rossato per l'immediata eseguibilità votanti 11 voti favorevoli 8 contrari 3 i medesimi nomi detti pocanzi punto 9 dunque approvato con immediata eseguibilità prima delle conclusioni c'era forse una comunicazione per parte una del sindaco e poi il consigliere rossato lasciamo prima parola al sindaco Molinari sì sì ma noi non c'è nessun no due cose velocissime la prima ci tenevo a rispondere al consigliere rossato nel senso che io non sono infastidito dell'interpellanza prima non ho voluto anzi come ho sempre detto più volte il compito della minoranza è anche fare delle osservazioni e sono ben contento che vengano fatte la mia tono comunque le mie precisazioni erano sul fatto che venga fatta la vigilia di Natale su una cosa che comunque c'era poteva benissimo essere fatta più avanti detto questo ripeto non sono infastidito e sempre per lei il consigliere rossato sto facendo fare i preventivi per rifoderare le poltrone della sala consigliare perché non vorrei si rovinasse i pantaloni o tutto il resto ok consigliere rossato voleva aggiungere qualcosa prego i gioielli di famiglia per fortuna non si sono mantenuti e l'unico problema sono i pantaloni volevo chiedere volevo dirvi una cosa in merito alle alle iniziative che 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 l'amministrazione organizza sponsorizza oppure dal patrocinio siccome dicevo prima che noi non facciamo parte lì dell'esercito dei selfie la cittadinanza tante volte cosa dice vabbè ma la minoranza non c'è mai è sempre assente no non è assente la minoranza la minoranza non c'è non è presente perché non viene invitata e di questo mi rammarico molto sono molto dispiaciuto da ultimo ho saputo parlando con il consigliere Tosi assessore Tosi che è stato fatto il saluto saluti di Natale quelli che si fanno da 20-25 anni a questa parte i dipendenti correggetemi se sbaglio venerdì antivigile di Natale ecco la minoranza non c'era non era presente ma non era presente perché non è stata invitata come non era presente in altre occasioni perché non viene invitata ho quasi la sensazione che lo facciate un po' di proposito spero di sbagliarmi però fa niente ecco se avete l'umiltà di volerci invitare solo nelle occasioni istituzionali le altre cose va bene fatele pure tranquillamente andate avanti a fare i selfie che a noi anzi non è che mi interessa più di tanto però se nelle occasioni istituzionali fatti in modo che anche la minoranza sia informata poi spetterà a noi esserci o non essere grazie il sindaco vuole rispondere sì beh bisogna fare l'elenco delle cose in cui eventualmente non siete stati invitati ci sono delle cose no no nel senso volevo solo precisare ci sono delle cose che noi veniamo invitati e non siamo noi organizzatori quindi no ho capito in generale stavo aggiungendo sulla parte istituzionale se è stata fatta una mancanza si rimedia però concludo dicendo che nel 2022 la Polaroid non c'è più ci sono i selfie punto quindi li utilizziamo e andremo avanti a farlo chiosa finale del consigliere Rossato prego assolutamente prego mi piace anche no vederli non è un problema la Polaroid non c'è più magari qualcuno la usa ancora però volevo dire sottolineare il fatto che io ho soltanto detto che quando le organizzazioni vengono fatte da un punto di vista dell'amministrazione quindi istituzionali il resto non me ne può fregare meno come si dice va benissimo così e mi piace anche vedervi sorridenti vabbè al di là della figura del sindaco anche le altre persone che ci sono vicine a lui grazie cogliamo l'occasione per augurarvi un felice anno nuovo sì anche da parte nostra assolutamente buon anno a tutti a tutte e buonanotte ci vediamo al prossimo consiglio chiudiamo i lavori sì sì grazie a tutti